E per sostenervi nella vostra preparazione organizzeremo anche delle simulazioni della prima e della seconda prova e si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo, aprile. Lo aveva annunciato così poche settimane fa il ministro Bussetti. Le simulazioni della prima prova scritta si svolgeranno il 19 febbraio e 26 marzo, quelle della seconda prova il 28 febbraio e 2 aprile. Ed ecco che ad una settimana dalla prima di queste date arriva dal MIUR la circolare che contiene le indicazioni su come si svolgeranno le simulazioni. Le tracce saranno pubblicate sul sito del MIUR alle 8.30 dei giorni previsti e riguarderanno tutti gli indirizzi di studio. Le scuole potranno utilizzarle sia in modalità simulazione, nello stesso giorno della pubblicazione, sia assegnando i testi durante l'attività didattica ordinaria. Nei giorni successivi sarà poi effettuata su un campione un'indagine che servirà a raccogliere suggerimenti su come migliorare questo nuovo esame di maturità, che, lo ricordiamo, prevede non più una ma due materie nella seconda prova scritta e l'abolizione della terza prova, il cosiddetto quizzone. All'orale sparisce la tesina e alternanza scuola-lavoro e testi invalsi non sono più requisito di ammissione.